Eccoci, bentrovati, bentornati a Retrobottega, appuntamento con Bottega Errante a chiacchierare di libri, di festival, di cinema, di case editrici e di molto altro. Quest'oggi siamo di nuovo qui in Via Pradamano, quinto episodio per questa rubrica che abbiamo aperto. Oggi abbiamo deciso di cominciare questo nostro spazio parlando di classifiche di libri. Ecco, Mauro le sta studiando, lo vedo molto concentrato, molto attento, avrà dei dati da sviscerare con noi insieme. Il primo ve lo do io perché ci teniamo a rendere pubblico, a farvi notare che finalmente le classifiche dei libri hanno scoperto che c'era un algoritmo che non funzionava, che dava Fabio Volo sempre primo in classifica. Oggi, dalla classifica che è arrivata ieri, Fabio Volo non è più primo, quindi questo è il primo grande risultato. Ma Mauro, visto che stai studiando, visto che sei all'interno di questo giornale, facciamo il punto. Abbiamo preso la lettura di questa settimana, la rivista del Corriere della Sera, però abbiamo anche fatto un gioco, abbiamo preso anche la classifica di un anno esatto fa. Allora, quali sono le considerazioni che si possono fare, a che punto siamo dopo un anno. Voglio solo sfumare il fatto che Fabio Volo non è in discesa, è proprio un crollo, dal primo è andato al dono. Ah, proprio un crollo strutturale, una debacca. Infatti è veramente una crisi merissima il libro, quindi adesso vediamo cosa farà, provate a fare il nuovo libro. Probabile, probabile. Dici chi è in testa questa classifica, svegliamo. Al primo posto della top ten generale dei libri più venduti nella settimana è Francesca Cavallo, è una famiglia storia della buonanotte 2. Allora mi chiedevo Alessandro, chi era primo in classifica esattamente un anno fa? Aspetta che controllo, un anno fa era esattamente primo storia della buonanotte per bambini ribelli 1. Quindi è come se in un anno questo cerchio si va a chiudere, i bambini e le bambine provano a dormire e vediamo se ce la fanno. Non solo quello che era primo un anno fa, adesso è settimo, quindi insomma un libro che diciamo che non sta andando malissimo. No, direi di no, non credo si lamenteranno. Ma proviamo però ad entrarci all'interno di questa classifica e scopriamo quelli che sono gli editori rappresentati da questa top ten. Per cui ti chiederei di fare una scorsa, ad esempio primo posto? Mondadori. Mondadori, benissimo. Al secondo posto abbiamo? De Agostini. De Agostini. Al terzo posto? Mondadori. Ah, di nuovo. E al quarto? Mondadori. Al quinto? Mondadori. Al sesto? Gniunto conto. Così per variare un po' la minestra. Al settimo? Mondadori. All'ottavo? Garzanti. Ah, al nono? Mondadori. E al decimo? Mondadori. Beh, in maniera di capire che un po' tutta l'editoria italiana è rappresentata da... Sì, questa è la stessa. Mondadori non dovrebbe in questa settimana avere una crisi di fatturato. No, penso che dovrebbe tenere il bilancio. Ma un anno fa invece... Un anno fa Mondadori... Crisi vera. Era... erano solo quattro libri nella top ten. Era forse il post... la post fusione con Rizzoli. Sì, il punto più basso probabilmente. Sono quattro. Sì, sì, quattro. Penso abbiano partito la fame. Eh, in via segrate, dovrebbero essere momenti difficili. Momenti veramente difficili. Abbiamo detto quelle che sono le case editrici e andiamo alla scoperta invece di quelli che sono gli autori. Per cui abbiamo già citato Cavallo Favilli che guidano questa top ten. Al secondo posto abbiamo... Abbiamo Alessandro Milan, il noto giornalista di Radio 24. Quattro. Al terzo abbiamo... La nota conduttrice televisiva D'Aria Birgnanti. Al quarto... Sofia Viscardi. Mi sfugge chi si dica Sofia Viscardi. È una nottissima youtuber. Ah, hai fatto delle ricerche. Fatti una ricerca prima di fare questa diretta, insomma, mi sono informato. Sei un po' documentato. Sì, quindi la youtuber è quattro in classifica. Molto bene. E quinto invece è uno scrittore? Iris Ferrari. La scrittrice Iris Ferrari? No, è una youtuber. Ah, anche l'euro. Beh, invece al sesto posto... È al sesto posto il prezzemolino, il grandissimo Alan Friedman. Alan Friedman che è un po' nell'elettotente. Dove lo metti lui sta? Esatto, Alan Friedman... C'era anche l'anno scorso, addirittura era terzo con questo libro. Questa non è l'America, quest'anno invece... E primo nella saggistica con dieci cose per sapere sull'economia italiana. Quindi tal Stati Uniti è andato a specializzarsi sul nostro paese e pare che gli abbia portato fortuna. Andiamo avanti. Poi andiamo al settimo posto, che è Francesca Cavallo e Elena Favilli. Abbiamo già. All'ottavo c'è Andrea Vitali. Andrea Vitali. In corsione, perché è probabilmente il primo scrittore. Primo scrittore vero e proprio. Nel top ten dedicata alla scrittura, alla letteratura. Sì, quindi è veramente una mosca bianca. E il nono posto? Fabio Volo. Che è scrittore? Ebbè, è un moltissimo scrittore. E il decimo... Adesso la pronuncia, non so... Ma io credo che tu possa lanciarti nella pronuncia. Io, io, no, yes. O se era meglio di no. Che sembra essere questa scrittura inglese di cui io non avevo coscienza. Bene, questa era la top ten generale di come sta andando l'editoria in Italia. Ci sono però altre cose che vogliamo sottolineare. Mauro ci peneva particolarmente. Sì, io volevo solo sottolineare il fatto che è un giorno triste oggi perché esce dalla top ten della narrativa italiana. Questo è il messaggio che è Francesco... Scusate. Chi è? Francesco Sole? Esatto. Che difficile è anche... Insomma, Francesco Sole è un notissimo scrittore. Sì, in plenso. Esatto. Che ho scritto hashtag ti amo. Accentatore culturale. Astag ti amo. Astag poesie. Che purtroppo, dopo, insomma, settimane di cui era... Tra l'altro, ho noto che era pubblicato da... Molto d'amori. Bene. Chiudiamo questa... No, ma io credo che tu volessi anche dire delle cose sulla... Sulla l'editoria varia. Sì, la varia è... Beh, la varia è sempre simpatico perché, al di là della youtuber Iris Ferrari... Continuo a trattare... In grossa difficoltà continuo io perché, dopo Iris Ferrari, c'è Adriano Panzironi, convivere 120 anni, questo grandissimo uomo di cultura, noto soprattutto per aver proposto di curare l'Alzheimer grazie alle erbe aromatiche. Per cui, rosmarino, timo in giardino, mentre in libreria e sugli scaffali della propria libreria, vivere 120 anni, Adriano Panzironi. Poi si va avanti con Michel Unziker e molte altre, e altri grandi. Mauro si è ripreso nel frattempo, anche perché adesso abbandoniamo quella che è la top ten di questa settimana, per invece andare a esplorare uno dei libri di Bottegherrante che sembra nato apposta per andare a spodestare Fabio Volo, nelle grandi classifiche dell'editoria. E allora, Mauro, chi è? E' il terzo libro di Bottegherrante nel 2018, si tratta del prezzo dell'equilibrio, con l'ana camera con vista, del grande scrittore Medeo Giacomini. E' un grande onore ospitare nel catalogo di Bottegherrante questo autore, che un po' prosegue praticamente nell'idea che abbiamo della narrativa, dopo Elio Bartolini e Amedeo Giacomini e Chito Magnacco abbiamo voluto pubblicare... E' difficile condurre le dirette così, pare che Mauro Daltino ce la faccia. Dicevamo, lo diceva lui, questo è il nuovo libro edito da Bottegherrante, che sarà in libreria dal 21 marzo e va un po' a completare quest'idea di andare a riscoprire i grandi classici della letteratura friulana e in generale della letteratura del nord-est. In questo libro particolare, Amedeo Giacomini va ad affrontare degli anni scomodi, anche se vogliamo per quello che era il panorama culturale, il panorama storico del Friuli, ma in generale dell'Italia, lo fa attraverso una storia e attraverso il rapporto di due fratelli e il loro percorso all'interno di questo romanzo. Tra l'altro il libro verrà lanciato ufficialmente a Codroipo, patria e paese di Amedeo Giacomini, verrà lanciato il 22 marzo in una serata al caffè letterario Codroipese, in cui ci saranno oltre a Mauro anche Maurizio Matiuzza e aiutami anche chi partita. Paolo Patui, Maurizio ha curato la prefazione di questo libro e quindi sarà presente insieme a Paolo che poi è il curatore insieme a me di questa collana Microcosmi che aveva ospitato Maniaco e Bartolini. Faccio un'incursione io, lo anticipo anche se lo avremmo detto successivamente a proposito di Microcosmi, proprio oggi, tra poco, alla fine di questa diretta, poi io mi sposterò a Manzano assieme a Paolo Medeossi e D'Angelo Floramo perché ci sarà un incontro organizzato dalla biblioteca proprio su Tito Maniaco e D'Elio Bartolini e sui libri che abbiamo pubblicato l'anno scorso. La cosa, diciamo, aggiungo solo la cosa bella di questo libro è che va a scandagliare, come diceva Alessandro, un periodo storico molto delicato ma anche molto poco raccontato perché si tratta di quel periodo che anticipa gli anni Ottanta, che anticipa un po' quello che è stato un decennio degli anni Ottanta e quindi racconta un periodo in questa provincia che è la provincia frulana ma può essere la provincia di qualsiasi provincia italiana, mescola l'idea di questa utopia collettiva un po' in cui c'è la disillusione ormai adesso questa utopia, racconta la storia familiare molto bella della relazione tra questi due fratelli e poi Giacomini è veramente considerato una delle voci più importanti, più prestigiose di questa terra e quindi per noi è veramente un bel libro da pubblicare e da proporre ai lettori. Bene, questo appunto è Amedeo Giacomini, oggi come al solito, ormai come nostra tradizione abbiamo scelto di portare qui anche una casa editrice di cui parlarvi e abbiamo scelto di parlare di una casa editrice amicissima proprio perché siamo quasi confinanti vicina di casa, sempre di Udine, che è Odos, che è anche una bellissima libreria di viaggio e la casa editrice è una casa editrice dedicata al mondo del turismo e del viaggio e in particolar modo ha creato questa collana, che vi faccio vedere, che si intitola Verso Est e questo è il volume dedicato a Sofia e in generale questa collana poi si muove in quelli che sono i territori del centro e dell'est Europa, la collana è curata tra l'altro da un'amica nostra di Bottega Errante che è Elena Commessatti, il libro Sofia è scritto da Simonetta Di Zannutto e la grafica tra l'altro, questo ci fa ancora più piacere dirlo e raccontarlo e di Federica Moro che è anche la grafica di tutti i libri di Bottega Errante Aggiungo che Marco, che è il libraio e editore in questo caso, ha avuto veramente l'intuizione felicissima qualche anno fa di andare a raccontare attraverso delle guide bellissime anche graficamente, con le mappe, con un sacco di cose itinerari, è andato a raccontare quelle città mai raccontate ancora, quindi lui è partito con Sarajevo, con Belgrado, con Ljubljana, con le città che non aveva una guida vera e propria di riferimento e quindi è andato a coprire un vuoto che si era generato nel tempo e secondo me è grande stima sempre a chi va a usare e anche a intuire che lì c'è un vuoto da colmare, quindi lui lo fa con queste guide bellissime che adesso hanno iniziato anche ad andare verso città italiane Sì, Udine, Trieste, eccetera Sì, quindi senz'altro se state progettando di andare a fare un viaggio in questi territori sicuramente un punto di partenza è una guida di Odos con cui puoi potervi muovere più facilmente e in maniera più interessante in queste città. Ma veniamo invece a quello che è il libro che vi consigliamo oggi, l'ha portato con sé Mauro e allora Mauro, chi ci hai portato? E questo è Stirpe di Marcello Fois, questo libro pubblicato da Inaudi fa parte di una trilogia, la cosiddetta trilogia dei Chironi che dopo Inaudi ha ripubblicato insieme in un unico volume ma che è formata da Stirpe appunto, da Nel Tempo di Mezzo e da Luce perfetta, sono tre romanzi che vanno a narrare questa veramente epopea di questa famiglia Chironi appunto, in questa Sardegna aspra, sicuramente non la Sardegna della costa o delle vacanze ma la Sardegna insomma quella più difficile e più complessa, è un grande scrittore Marcello Fois, io sono insomma innamorato della sua scrittura, ho letto praticamente tutto soprattutto I Chironi in questa trilogia ha dato il meglio di sé e Stirpe soprattutto è forse il più riuscito. Sono le vicende tragiche di una famiglia a partire dalla fine dell'Ottocento fino ad arrivare poi a metà Novecento con il passaggio delle due guerre, c'è, si sente il profumo della Sardegna, io non ci sono mai stato in Sardegna fisicamente ma è come se fossi lì con i personaggi di Fois, è pieno di terra, è pieno di sole, è pieno di personaggi straordinari sia di ragazzi che si muovono in questa famiglia, sia dei grandi vecchi, insomma è un libro che si occupa di più generazioni, si occupa di più tempi della storia, è un romanzo commovente e quindi lo consiglio veramente tanto, soprattutto perché ha una scrittura meravigliosa e quando incrocio questo tipo di scrittura io mi innamoro, mi innamoro dell'autore e allora poi vado a leggere tutto quello che ha scritto, quindi il consiglio di questa settimana è stirpe di Marcello Fois. Bene, grazie per questo splendido consiglio, un libro tra l'altro di cui si era parlato molto sulla stampa, di cui si era parlato anche molto sui social online e come ormai tradizione abbiamo scelto di portarvi qua oggi anche l'esperienza di un altro collettore di idee riguardanti la letteratura e il mondo dell'editoria che potete trovare sul web. Oggi vi abbiamo portato l'esperienza di Casa Lettori, creato da Marianna Patti, questa giornalista siciliana, è uno spazio che nasce soprattutto e si sviluppa poi su Twitter e dà la possibilità veramente di mettere a disposizione dei lettori e i lettori a loro volta mettono a disposizione di tutti gli altri utenti consigli, recensione, idee sui libri che stanno leggendo in quel preciso momento o che hanno letto. Tra l'altro poi Casa Lettori ha anche uno spazio settimanale all'interno di Robinson, l'inserto di Repubblica che esce la domenica, per cui il consiglio è quello di fare un salto prima su Twitter e poi magari di continuare anche a leggere Robinson dove poter trovare questi consigli. Siamo arrivati alla serie di appuntamenti, in questa settimana siamo ricchissimi di appuntamenti di bottega errante, quindi li scorriamo velocemente a partire appunto da quello delle 18 adesso che si terrà a Manzano, ma domani è il grande giorno di Attic Raimi. Attic Raimi a Colvenone, verrà presentato al convento di San Francesco il libro, quello che abbiamo pubblicato noi, di cui siamo molto fieri, orgogliosi e contenti, grammatica di un esilio, assieme ad Attic Raimi ci sarà anche Paolo Di Paolo che ha curato con noi questo volume. Riprende, ha fatto due tappe nel weekend passato, due tappe bellissime, insomma, a Padova e a Minerva in provincia di Verona e quindi riprende Alessandro Caginato con il suo fiume, con la sua rabbiosa che sta facendo il giro del Veneto e il primo appuntamento è mercoledì a Mestre alla Feltrinelli alle ore 18, alla Feltrinelli del centro commerciale Le Barche e ci sarà, insomma, con Alessandro ci sarà Stefano Luciani che è il presidente dell'associazione IDEA, di una situazione che si occupa di etica ambientale. Il giorno dopo sarà Merlara in provincia di Padova, nella sala palivalente Celotto presso Villa Barbarigo e dialoga insieme ad Alessandro lo storico Gian Daniele Paoletto. Sempre poi va nel weekend la rabiosa e arriva a Borgoricco, sempre in provincia di Padova, all'interno della 31esima edizione della mostra del libro e ci sarà Nicoletta Masetto giornalista a dialogare con Alessandro e poi per finire domenica a Montagnana, sempre in provincia di Padova. Vi segnalo un altro, scusa se ti interrompo, appuntamento dedicato ad Attic Raimi invece giovedì 15 marzo perché ci sarà a Pordenone la lettura scenica proprio tratta dal nostro libro Grammatica di un esilio. Questi un po' gli appuntamenti di Bottegarante per questa settimana, siamo ormai praticamente in chiusura. Come sempre chiudiamo con il consiglio, l'idea che ci suggerisce Alessandro per passare una settimana. Esce giovedì questo film che si intitola Oltre la notte con protagonista Diane Kruger, è diretto da Faita Keen, un film che era stato a Cannes e che aveva vinto anche una serie di premi e è un film ambientato in Germania nel preciso momento in cui avvengono questa serie di attentati dovuti a una formazione neonazista ed è la storia di questa donna e madre che un po' si confronta con questo mondo. Oggi non vi parlo soltanto di questo film ma è una giornata particolare perché molti di voi magari già lo sapranno, avranno avuto modo di vederlo, è uscito il primo teaser di Loro, il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi, a quella che è l'idea di Sorrentino di Berlusconi. Sono 30 secondi, ma sono 30 secondi intensi che sicuramente ci faranno fare molte domande. Per cui andate a pescarvelo, andate al cinema, seguite i consigli di Mauro per la lettura, noi ci vediamo lunedì prossimo in diretta dalla sede del Messaggero Veneto Scuola di Pordenone, dove faremo una chiacchierata con un gruppo, un folto gruppo di studenti e giovani giornalisti e ci metteremo un po' a nudo, non letteralmente, fortunatamente, ma racconteremo un po' quella che è la storia della nostra piccola casa editrice e un po' sveleremo quello che è il mondo dietro a quello che cerchiamo di fare. Per cui seguiteci, alla prossima. Grazie. Ciao, buona sera.